Il meteo offerto da Centro Revisioni Florio Calandra Benvenuti al meteo di Filorus TV Vediamo insieme le previsioni di domenica 30 maggio L'alta pressione garantisce tempo stabile su tutta la regione con sole ovunque Sul litorale tirrenico e meridionale cieli sereni per l'intera giornata con qualche annuvolamento serale Sul litorale ionico, sull'appenino e nelle zone interne cieli poco nuvolosi per l'intera giornata Venti moderati, basso tirrenio, canale di Sicilia e mare di Sicilia calmi Vediamo adesso le temperature Palermo 28-17 Trapani 25-17 Agrigento 27-15 Enna 25-15 Caltanissetta 28-11 Ragusa 25-15 Siracusa 29-16 Catania 30-16 Messina 24-17 Grazie, appuntamento al meteo di domani